Siamo Anonymous. Ho scritto riguardo questi arrestati in parte sbagliato, perché hanno utilizzato un ideale per scopi personali. Quindi queste 4 persone arrestate hanno creato pirateria informatica mirata a soggetti che non avevano alcuna colpa. Anonymous di fatti come ideale non vuole colpire il singolo, anzi se proprio deve colpire colpisce il collettivo. Non servono attacchi informatici, basta liberare tutte le informazioni disponibili riguardo quello che ci interessa. Quindi quello che è successo questa mattina non riguarda assolutamente Anonymous, ma riguarda persone che si fanno chiamare Anonymous, ma sono hacker e pirati informatici. Io parlo a nome di tutti gli Anonymous in Italia, ossia potresti essere benissimo tu, potrebbe essere il tuo vicino di casa, il tuo barista. Parlo a nome di un'idea, parlo a nome dell'idea che è nata in America circa 4-5 anni fa e si è sviluppata in tutto il mondo. Che cos'è Anonymous Italia? Anonymous Italia è ufficialmente l'idea di Anonymous che è approdata, è arrivata in Italia. È nata circa due anni fa come Anonymous Italia e finora abbiamo cercato di smuovere le masse da questo tipo di censura mediatica e non solo. Cosa possiamo dire d'altro? È un'idea, quindi possono tutti farne parte, non c'è un modo per dire tu sei un Anonymous, tu non sei un Anonymous. L'unica cosa che ci differenzia dal restante parte delle persone è che siamo apolitici completamente e cerchiamo di evitare di attaccare il singolo individuo. Se proprio dobbiamo attaccare qualcuno lo facciamo in maniera che tutti possano vederlo e tutti possano essere consapevoli che quello è un errore. Allora, ufficialmente no, perché siamo nati come hacker, ma diciamo che con il tempo quest'idea si è evoluta. Se hacker è definire una protesta sul web, allora è giusto anche definire tutte le manifestazioni per strada come dei teppisti. In realtà non è così. Un attacco di Dios, come avveniva nei primi periodi di Anonymous, era una manifestazione mirata in un sito web. È come se un giorno si decidesse di andare in piazza e fare una manifestazione. Noi la pensiamo così, pensiamo più che altro che sia una manifestazione libera a tutti, in cui si possa ritrovarsi, far vedere di avere qualcosa al contrario nel rispetto di questo sito o comunque nel rispetto di questa istituzione, fare questa manifestazione che blocca il sito, perché giustamente tante persone che si trovano bloccano il sito, è buona. È la stessa identica cosa che succede in piazza, tante persone in piazza blocchiamo la piazza finita lì. Quindi non vediamo un modo per chiamarci hacker, noi si chiamiamo manifestanti del web, attivisti di fatti.